Cambio di appalto nella gestione della mensa alla Casa Divina Providenza di Biceglie e Foggia. Dopo la revoca del contratto all'Ambrosia Technologies di Molfetta, il Donuva ha affidato il servizio ristorazione alla ditta Pastore SRL. Il tavolo presso l'hotel Salsello di Biceglie tra i vertici della ditta subentrante e di rappresentanti sindacali di Filcams, Fisascat, Wiltux e UGL, al centro della discussione il futuro occupazionale, dopo il cambio d'appalto dei 78 lavori che si occupano della ristorazione nelle due sedi pugliesi. La ditta subentrante nella gestione del servizio per un anno sin dalle prime battute della trattativa, spiega Mary Mannocchio, segretaria generale Filcams CGL, ha dichiarato un esubero del 60%, un dato inaccettabile da tradursi nei fatti nella riduzione delle ore lavorative per tutti i dipendenti, senza però mostrare i numeri dei quali si evince tale situazione di esubero, le modalità con cui intende svolgere il servizio e neanche le modalità di aggiudicazione dell'appalto, elementi indispensabili per portare avanti qualsiasi discussione relativa ad un cambio di appalto. A queste condizioni, dichiara la Mannocchio, non è possibile concludere nessun accordo. Ci vengono chiesti dei sacrifici senza spiegarci su quali basi questi dovrebbero essere fatti. Una situazione nella quale, conclude la Mannocchio, riteniamo che siano direttamente responsabili i vertici della CDP.